Il fatto che questi giovani d'oggi, ecco quanto mi sento vecchio a dirlo in questo modo, però che le nuove generazioni passino così tanto tempo sopra i propri smartphone, non aumenta la possibilità di incontrare e di entrare in contatto con dei modelli, mettiamolo tra virgolette e tra parentesi, negativi che possono in qualche modo influenzare la sua personalità proprio in una fase di crescita fondamentale. E poi che diventi questo un processo di cui si perde anche un po' il controllo. Io sono un genitore, ho una bambina ancora piccolina di nove mesi e va bene così, però in futuro è importante anche, non dico controllare, ma assicurarci che i nostri figli entrino in contatto con dei modelli anche sani. E se passano in maniera autonoma così tanto tempo sui loro smartphone, non aumenta la probabilità che entrino in contatto con dei modelli che invece siano completamente negativisti, ne sentiamo tanti anche oggi fondamentalisti, insomma senza citare cose particolari. Quello sicuramente sì, allora quello sicuramente il rischio aumenta non solo riguardo ai modelli ma anche riguardo anche le persone che potrebbero incontrare, parliamo poi di cyberbullismo, pedofilia online e via di questo passo. Quello sicuramente perché man mano che si abbassa l'età di accesso al dispositivo proprio, quindi con una SIM, con un numero telefonico, quindi indipendente dal controllo dei genitori, maggiori sono i rischi. Questo sicuramente sì. Però attenzione perché qui di nuovo non è il dispositivo, perché il dispositivo è uno strumento. E come viene utilizzato. Allora, il discorso è innanzitutto aiutare i nostri ragazzi, appunto quindi passiamo alla parte un po' più propositiva, aiutare i nostri ragazzi ad utilizzare il dispositivo, le piattaforme giochi con consapevolezza. Tanto per iniziare. Informarli sui rischi, rischi di privacy, legati alla privacy e via di questo passo. Perché attenzione, non è vero che, io dico sempre, ironizzo dicendo, non è vero che i nostri ragazzi non conoscono la privacy e che nessuno gliel'ha mai spiegata. Perché per esperienza io vedo benissimo che nel momento in cui si spiegano vari principi di privacy, i nostri ragazzi poi blindano letteralmente i loro dispositivi, le loro piattaforme tipo Instagram ad esempio e via di questo passo. Quindi questo sicuramente, attenzione, sicuramente l'utilizzo consapevole. Poi anche mostrare insieme a loro un utilizzo differente dallo strumento, più positivo. Ossia, ok, segui quel canale YouTube perché fanno gli scherzi, è divertente, ok d'accordo, però sappi anche che con YouTube puoi fare anche tante altre cose. Ad esempio, io quando entro soprattutto nelle classi del tipo di quinta elementare, a volte anche in prima media in alcuni casi, io ogni volta gli chiedo, ma voi avete mai viaggiato nel tempo con YouTube? E tutti si guardano, vediamo, ma che sta dicendo questo? Eh beh, perché su YouTube potete vedere documentari, eccetera, eccetera, adesso te la sto facendo un po' veloce, però in genere li sbalordisco, così sapete che potete conoscere gente strana su YouTube, eccetera, eccetera, diversa da voi e così via. Quindi ecco che, poi argomentandoglielo, ecco che lo stesso YouTube diventa poi uno strumento fatto anche per imparare, ma non solo. Come un ragazzo che un'estate, che seguivo, che un'estate aveva un debito di fisica, quindi insomma, io non potevo seguirlo, che ero via, lui non riusciva a studiare un argomento e gli ho inviato una decina di link di video di YouTube in cui questo argomento di fisica veniva spiegato da ragazzi dell'università, quindi in modo molto giovane, più vicino, questo ragazzo che era alle superiori e questo lo ha aiutato poi a superare quell'impasse. Quindi, certo, quindi essere modellanti, cioè modellare un approccio sano, consapevole. Esatto, un approccio sano, consapevole e soprattutto stargli vicino, perché, ma attenzione, stargli vicino è esattamente come quando ero io bambino con la televisione, che mi ricordo che si diceva ai genitori, io ho già seguito queste cose, vabbè, sono sempre stato molto precoce, ok, però mi ricordo che sentivo che si diceva ai genitori, non lasciate i bambini soli davanti alla televisione, state lì vicino, commentate insieme quello che succede, eccetera, eccetera, e la stessa cosa vale per il digitale. Cioè, il video di YouTube ce lo guardiamo insieme, ad esempio, ok? Anche il gioco, anche banalmente, il videogioco, facciamo qualche partita insieme, perché serve anche a me come genitore per capire a che cosa stai giocando. E poi questo, attenzione, perché questo è l'elemento fondamentale quando si parla di prevenzione dei rischi, mi aiuta la relazione, perché tutto si gioca sulla relazione. Allora, il digitale è un mondo, un universo anzi, estremamente fluido, in continuo cambiamento. Ora, i nostri ragazzi hanno tempo da perdere per stare dietro a ogni cretinata che viene proposta dal digitale. Noi adulti no, perché lavoriamo e via di questo passo, ok? Quindi, gli adulti, a volte si pensa che uno debba stare dietro a tutte le diavolerie che vengono fuori per i nostri ragazzi. Sarebbe utile, ma non è quella la vera strategia, la vera risorsa. La vera risorsa è quella di essere in contatto con i nostri ragazzi per capire se sta succedendo qualcosa, che è molto diverso come discorso. Certo. Io magari non so che cos'è TikTok, sarebbe utile saperlo, d'accordo, torno a riprendere, a meno un'infarinatura, sapere cosa succede dentro, ok? Però sono in relazione con te, per cui ho creato un ambiente tale per cui sei tu, ragazzino, che se succede qualcosa di dubbioso lo viene a raccontare a me adulto.